Bene, benvenuti a questo incontro dedicato alla gestione del denaro. Io mi chiamo Roberto Fuccaro e mi occupo in Fineco da diversi anni di formazione. Oggi parliamo di gestione dei risparmi, facendo una premessa doverosa. Il rapporto con il denaro per molti di noi è un aspetto un po' controverso. Alcuni pensano che il denaro si debba solamente accumulare, altri pensano di saperlo gestire, ma pochi di noi hanno la consapevolezza che per gli altri aspetti importanti della vita, quali ad esempio la salute, è necessario conoscere alcuni concetti base, in modo da non commettere errori, soprattutto oggi che il mondo della finanza e del risparmio sono estremamente evoluti. Da qui la necessità di avere delle basi per poter affrontare la complessità dei mercati finanziari, in modo consapevole. Ecco l'obiettivo dell'intervento, dare alcuni suggerimenti pratici per riflettere su a cosa serve il denaro per che accumuliamo e come gestirlo in modo adeguato. Vi ricordo che avete una chat anche a disposizione, che state già utilizzando per scrivermi che l'audio si sente bene, che il video si vede. La potete utilizzare anche per farmi domande o, se avete dubbi, scrivermi direttamente quelli che sono appunto i vostri dubbi. Io cercherò durante il webinar di rispondere alle vostre domande. Perfetto, ok. Andiamo a vedere quindi i temi che andremo a parlare. Parleremo di metodo, quindi dell'approccio che ci aiuta a capire a cosa ci serve il denaro in modo strategico, cioè con una visione di lungo periodo. Gli addetti ai lavori parlano di pianificazione finanziaria, ma in fondo sarebbe più comprensibile parlare di cura, sì, di prendersi cura di sé e dei propri cari, attraverso la cura dei propri risparmi, e più in generale delle proprie entrate. E attenzione, paradossalmente, ed è facile anche intuirlo, più le entrate, quindi i risparmi, sono limitati, più cura dobbiamo averne. Analizzeremo quindi i passaggi di questa pianificazione finanziaria, che sono identificazione delle esigenze reali, la trasformazione delle esigenze reali in obiettivi finanziari, l'orizzonte temporale, che non è unico ma si riferisce appunto ad ogni singolo obiettivo, il profilo di rischio che è una sorta di autovalutazione, per capire come sentirmi a mio agio, di fronte ad investimenti più o meno rischiosi. Infine, la scelta degli strumenti finanziari che appunto il mercato ci mette a disposizione. Fondamentalmente è anche questa una scelta che deve essere coerente rispetto a tutti i passaggi che abbiamo visto prima della pianificazione finanziaria. Bene, ecco visualizzato il metodo della pianificazione in un percorso a tappe, che ci aiuta a risparmiare correttamente ed investire con metodo. Abbiamo detto quello che sono l'identificazione delle esigenze reali come prima tappa, poi obiettivi finanziari e poi, in comune accordo, definizione dell'orizzonte temporale e del profilo di rischio. Il tutto avrà come sommatoria, alla fine, la scelta degli strumenti finanziari per arrivare appunto ai nostri obiettivi finanziari. Ok? Cominciamo il percorso della pianificazione finanziaria, che ha l'obiettivo di ricercare la coerenza tra le esigenze personali da un lato e la struttura del patrimonio per soddisfare quelle esigenze. Quindi, la prima tappa sono appunto le esigenze reali. Cosa sono le esigenze reali? Abbiamo detto che la corretta gestione del denaro deve essere fatta con metodo, che chiamiamo pianificazione finanziaria. L'utilizzo di questo metodo della pianificazione ci aiuta a definire obiettivi di vita e cercare di individuare gli strumenti per raggiungerlo. Se però rimanessimo a questo livello, resteremo troppo teorici. Ad esempio, vi descrivo i miei obiettivi personali. Il primo è colmare il mio gap previdenziale. Il secondo è un'istruzione di qualità per i miei due figli, Nicolò e Camilla. Chi tra di voi ha figli oppure siete zii o nonni? Mi capirà sicuramente. Nella nostra famiglia è importante sapere che i nostri figli potranno frequentare l'università che vorranno, in base alle loro aspirazioni. Oppure potremo sostenerli per avviare una loro attività professionale. Ed è stato importante averlo pianificato diversi anni prima. E poi, ma non per importanza, c'è l'acquisto della propria prima casa o il suo ampliamento, se siamo già possessori. Oppure il contributo per quella di un figlio. Ecco, è fondamentale fermarsi un attimo e ragionare realmente su come ci immaginiamo il nostro futuro. Cosa veramente che ci manca e cosa vogliamo effettivamente raggiungere. Alcuni di voi che seguono questo webinar. Questo processo lo ha già fatto? Ve lo chiedo e potete scrivermi via chat così da rendere un po' più dinamico il webinar. Quindi alcuni di voi hanno già affrontato e hanno già visto quelli che possono essere le proprie esigenze reali e come si vedono, permettetemi le virgolette, da grandi? Perfetto. Controllate ed aggiornate, ma non ha fatto... Sì, mi sono imposto diversi obiettivi annuali. Ok. Aggiornate, ok. Perfetto. Quindi molti di voi, almeno chi mi ha scritto via chat, ha già aggiornate. Certo, sono un pensione e anziano. Assolutamente. Allora, ognuno di noi ha delle esigenze reali ed ognuno di noi ha degli obiettivi finanziari. Chi di breve, chi di lungo termine. A chi mi ha detto, mi sono imposto degli obiettivi annuali, il mio invito è quello di guardare anche oltre l'anno. Cioè quello che si può fare anche dopo l'anno. Come ad esempio questi obiettivi che vi ho appena esposti. Ok. Però già il fatto che vi siete fermati per vedere quelle che sono le vostre esigenze reali è già un grandissimo passo in avanti. Va bene? Perfetto. Allora quindi diciamo che gli obiettivi annuali sono tattici per arrivare poi a un obiettivo più grande e di più lungo periodo. Va benissimo. Allora, approfondiamo un attimo ulteriormente. Quindi se chiedessi a un trentenne di riflettere sulle esigenze di vita mi direbbe sicuramente cose diverse rispetto a un cinquantenne. E infatti alcuni di voi via chat mi hanno già scritto e posso già capire chi di voi rientra in una fascia d'età e chi in un'altra. Proprio perché hanno diverse esigenze, no? Il primo, il più giovane, nella piena fase di accumulo con uno spettro di esigenze che va, non so, ad esempio dall'auto nuova, alle vacanze, alla possibilità di comprarsi una casa per diventare indipendente. Mentre un meno giovane invece in una fase di conservazione tale per cui ha come obiettivo solitamente lo studio dei figli piuttosto che una casa sempre per i figli oppure una casa più grande o altri obiettivi che servono appunto per dare una mano ai propri figli o nipoti. E' tutto corretto ed è tutto vero, ma in realtà molto spesso si ragiona con una certa miopia, pensando che gli obiettivi di vita siano quelli di cui si ha immediata percezione. E ci è difficile proiettarci in un periodo molto più lontano. Se io vi chiedessi, ad aprile del 2030, come vi vedete, ovviamente molti di voi avranno difficoltà nel rispondere. Però l'invito è quello di fare uno sforzo per arrivare a vederci appunto tra dieci anni, quindici anni. Sembra strano a dirlo, ma sia per chi è giovane sia per chi non lo è, uno dei veri obiettivi di vita è quello di mantenere un livello di benessere una volta anche andati in pensione. O chi si è già cercare di tenerlo tale. Il consiglio per riuscire ad individuare con più lungi miranze i propri obiettivi è quello di guardare gli stili di vita e le necessità delle persone più anziane vicino a noi. Prima di tutto i genitori e quindi, ad esempio, è fondamentale ritrovarsi un reddito che permette le cure migliori, l'assistenza più adeguata. In poche parole, poter vivere bene la fase post-lavorativa. Passiamo ora ad un altro aspetto importante delle analisi delle esigenze. Abbiamo detto che ognuno di noi può avere tanti sogni, o meglio tante esigenze da soddisfare, ma altrettanto importante è dare a questi sogni una priorità. Senza questo criterio c'è il rischio di disperdere un po' le forze economiche e mentali inseguendo qualcosa che poi in realtà non era al primo posto della lista. Quindi, oltre a definire quelle che sono le esigenze reali, cercare di dargli una classificazione. Al primo posto metto l'indipendenza finanziaria, al secondo posto, faccio un esempio, la seconda casa, il terzo posto i viaggi e così via. Bene, definite le esigenze reali, passiamo ora allo step successivo, cioè gli obiettivi finanziari. E' fondamentale pensare che le risorse a disposizione servano a soddisfare le proprie esigenze e quindi bisogna trattare il patrimonio non come un unicum, indistinto, ma spezzettarlo e dedicare ogni parte di questo ad un progetto di vita. Il raggiungimento di ciascun obiettivo deve essere considerato una storia a sé. E adesso vediamo come, facendo anche degli esempi pratici e mettendo dei numeri vicino. Quindi, se volete anche aiutarmi portandomi la vostra esperienza personale, possiamo creare proprio degli esempi pratici più adatti a voi. Prendiamo il caso di un padre di famiglia, padre di famiglia tipo. Avrà sicuramente il desiderio di cominciare a costruirsi una pensione integrativa per mantenere il proprio livello di benessere anche quando sarà in pensione. E poniamo questo obiettivo a 300.000 euro. Poi, ad esempio, vorrà dare tra un po' di anni un'istruzione di qualità ai figli e quindi poniamo come obiettivo finanziario altri 100.000 euro. E poi, infine, aiutare i figli per l'acquisto almeno parziale di una casa e quindi altri 100.000 euro. Ok? Quindi, vediamo a sinistra quelli che sono le esigenze, vediamo quelli che sono gli obiettivi finanziari, cioè li abbiamo quantificati. Qualcuno di voi vuole aggiungere qualche altra esigenza? E di conseguenza andiamo a definire quello che può essere l'obiettivo finanziario? Ok. Perfetto, sostegno dei genitori anziani, qualcuno mi scrive. Perfetto, quindi qua, quando, dicono, cule sanitarie considerando che la sanità pubblica non durerà in eterno, assolutamente concordo. E quindi qua, quando voi avete davanti un foglio e una penna, andrete ad inserire questo obiettivo finanziario. Ad esempio, visto che c'è il sostegno dei genitori anziani o comunque le cure, potete mettere accanto 50.000 euro. E lì capire se è un'esigenza di breve periodo oppure un'esigenza alla quale ci devo pensare in questo momento, ma ho tempo a disposizione. Questi obiettivi sono completamente diversi tra di loro. E quindi implicano una pianificazione diversa per raggiungerli, poiché ci sarà da verificare il preciso orizzonte temporale del singolo investimento, come vi dicevo prima. Il rischio che voglio prendere, e qui entrano in ballo anche le emozioni, è lo strumento finanziario più adeguato. Quindi, se io ho queste esigenze, ci aggiungiamo anche la cura dei genitori o l'assistenza sanitaria. Ad ognuno di queste esigenze obiettivi devo dare una sorta di tempo. Quindi, esigenze, obiettivi, tempo. Il tempo per arrivare alla pensione, almeno per me, è un tempo lungo. Quindi, inizio a pensarci giustamente in questo momento, ma lo posso dilazionare molto di più nel tempo. Le esigenze di mandare i miei figli all'università, o comunque dare una mano qualora dovessero decidere di intraprendere un'attività lavorativa. Sarà un po' più di breve, però c'ho ancora un bel po' di anni davanti. La seconda casa, e così via. Quindi, dare una certa priorità temporale. Arriviamo quindi a quello che è l'analisi degli altri due concetti basilari, come avevo accennato proprio un attimo fa. Cioè, l'orizzonte temporale e il profilo di rischio. Partiamo dal primo. E' importante definire l'orizzonte temporale di un obiettivo, in modo da sapere quanto tempo ha disposizione per raggiungerlo. Con la consapevolezza che più è ampio o lungo, più ci permette di guardare al futuro con serenità. Perché i 300.000 euro della pensione, con un obiettivo temporale da qui ai prossimi 40 anni, se tutto va bene, ovviamente avranno un peso diverso rispetto alla cura dei propri genitori anziani che ha un obiettivo temporale inferiore. E di conseguenza anche le priorità. Quindi, in base a quello che ci siamo detti, potete già iniziare a prendere il foglio degli appunti e iniziare un po' a scrivere quelle che sono le vostre, mettere nero su bianco per vedere quelle che sono le vostre esigenze reali, i vostri obiettivi finanziari e accanto di questa matrice mettere il periodo temporale. Allora, in merito all'importanza di avere un orizzonte temporale medio-lungo, potremmo mostrare qualsiasi grafico di indici azionari, dimostreremo che investire in modo diversificato può consentire di ottenere rendimenti sempre importanti. Però ho reputato che sia più interessante mostrare questa tabella. I numeri di questa tabella ci dimostrano che dopo i cinque peggiori tonfi di borsa, che sono quelli che fanno parlare di più rispetto a quando il mercato va bene, il mercato azionario di tutto il mondo, rappresentato dall'indice Morgan Stanley Capital Investment All Country World, ma molto semplicemente MSC World, l'indice mondiale azionario, si è ripreso e dopo cinque anni i rendimenti medi-annui sono sempre positivi. Però ci sono situazioni in cui il crollo ha determinato una perdita di oltre il 50% del capitale, come è successo nell'ultima crisi finanziaria del 2008-2009, dove c'è stata una caduta e il mercato aveva dimezzato il suo valore. Ecco che cosa entra in gioco quando si guarda al medio-lungo periodo. Entrano in gioco le emozioni. Per capirci, ci sarà sempre certamente qualcuno che è entrato sul mercato il giorno prima che è iniziato un crollo. Immaginiamo come ci si possa sentire. Ecco, decido finalmente di investire, mi sono fatto una bella cultura, ho visto quelli che sono i miei obiettivi, il mio orizzonte temporale, decido di investire, boom, il mercato crolla. E insieme a lui nel giro di poco si dimezza anche il capitale che ho investito. Ecco, nonostante questo, se tengo duro e resto fedele ai miei obiettivi, potrei recuperare e nel medio-lungo termine avere anche accumulato un bel guadagno. Sì è vero, più correttamente in passato è stato vero. E se questa volta succedesse qualcosa di diverso, ecco che arriva la nostra emotività. Potete immaginare come c'è veramente da impazzire. E in tanti, per fortuna, non impazziscono, però escono dal mercato nel momento peggiore, cioè arrivando quando il mercato è al minimo storico. Rimanendo nell'ambito delle emozioni, giusto per riprendere uno degli esempi personali condivisi prima, se il mio investimento è finalizzato alla futura casa dei miei figli, di fronte alle forti variazioni di mercato di, ad esempio, febbraio 2020, allo scoppio della pandemia, se guardo solo al mio portafoglio, rischio di disinvestire. Cioè, se io mi focalizzo su quelli che sono i numeri che vedo sul portafoglio, quel meno davanti, rischio di disinvestire, di uscire sui minimi e perdermi appunto il recupero che c'è stato già a partire dal mese successivo. Se invece vedo in quei numeri, vedo quello che è l'obiettivo finanziario, cioè i miei figli in futuro, la loro istruzione, la loro bella casetta, proiettando nel futuro l'obiettivo è più facile che rimanga investito. Passiamo ora al secondo concetto, il profilo di rischio, ossia la misura della quantità di rischio che si dovrebbe assumere nei propri investimenti, considerando vari fattori, come la situazione finanziaria e la propensione alle perdite. Poiché la maggior parte di questi fattori è personale, il profilo di rischio varia da individuo a individuo. Aggiungiamo un'altra considerazione per stemperare le emozioni di fronte ai forti oscillazioni di mercato. I mercati finanziari possono aiutare a raggiungere i nostri obiettivi. Si può investire in due modi, in modalità PIC, cioè in un'unica soluzione, oppure in modalità PAC, cioè in modo graduale nel tempo, con versamenti ricorrenti. Lasciare invece i propri risparmi su un conto corrente non remunerato li può esporre alla perdita di potere d'acquisto, che soprattutto in questo periodo noi stiamo vedendo. Negli ultimi anni, fino al 2020, caratterizzati da una bassa inflazione, la perdita è stata comunque evidente, circa il 10% in 10 anni, dal 2010 al 2020. Vedete, questo è un simulatore dove vi fa vedere come 100.000 euro lasciati sul conto corrente dopo 10 anni, senza fare nulla, hanno perso come perdita di valore, di potere d'acquisto, circa il 12%. Nel 2021 e soprattutto nel 2022, l'inflazione è aumentata molto e a dicembre 2022 è arrivata quasi al 12% qui in Italia. Anche se stiamo vivendo momenti molto particolari in cui il rialzo dei prezzi è concentrato soprattutto sui beni energetici. Ma consideriamo che l'obiettivo della politica della Banca Centrale è un'inflazione attorno al 2%, cioè comunque un'inflazione. Bene, ora guardiamo insieme anche questa proiezione nel futuro. Se guardiamo questo grafico, ci accorgiamo immediatamente come tenere i soldi fermi sul conto non remunerato non è proprio un grande affare. Con questi tre scenari il capitale inizierà a perdere potere d'acquisto in 10 anni, dal meno 10% al meno 26%. Sì, certo, un vantaggio a tenere i soldi in liquidità c'è ed è la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che appunto garantisce i nostri depositi fino a 100.000 euro. Ma oltre a questo importo subentra la normativa sul risanamento degli enti creditizi. I depositi per la parte eccedente ai 100.000 euro potrebbero essere assoggettati al bail-in nel caso di stato di crisi dalla loro banca. Bene, dopo questo excursus su orizzonte temporale, profilo di rischio e inflazione, torniamo al nostro percorso della pianificazione finanziaria. Per visualizzare e capire meglio i passaggi che stiamo facendo, riprendiamo insieme l'esempio del nostro padre di famiglia. Primo obiettivo fondamentale garantirsi una vecchiaia serena in pensione e sappiamo come sarà difficile farlo con la sole pensione IMSS. Pertanto può essere opportuno preoccuparsi per tempo e aderire alla previdenza complementare, cioè aderire ad un fondo pensione mettendoci, per chi può, il TFR e versando i contributi magari a cadenza mensile oppure trimestrali per diluire nel tempo l'impiego. Il fondo pensione, avendo un orizzonte temporale lungo, ci permette di rivalutare il nostro investimento e darci quindi una rendita o un capitale che integra la pensione IMSS. Nel frattempo, per il secondo obiettivo, per poter mandare il figlio all'università, si può cominciare a un piano di accumulo in modo da arrivare preparato finanziariamente al momento dell'iscrizione del figlio all'università. E infine il nostro padre di famiglia, per comprare una parte della casa per il figlio oppure allargare la propria, dedicherà una parte del patrimonio liquido in un investimento adeguato al suo profilo di rischio e con un orizzonte temporale medio, circa 5 anni, arrivato alla scadenza, potrebbe aggiungere un mutuo per la parte mancante e così raggiungere il suo obiettivo, acquistando la casa dei suoi sogni. Ma veniamo all'ultimo miglio del nostro percorso di pianificazione finanziaria. Anch'esso è importantissimo, cioè la scelta dello strumento più adeguato. Premetto che non esistono strumenti buoni o cattivi, ma solamente strumenti adeguati o non adeguati al proprio profilo di rischio. Vediamo di capire insieme alcuni strumenti che la finanza ci mette a disposizione. Esistono diversi strumenti per diversificare e a ciascuno corrisponde un determinato livello di rischio. Tendenzialmente, quando compro un'azione, diventiamo soci di quell'azienda. Chi compra le azioni in caso di fallimento della società emittente può perdere l'intero capitale investito. Inoltre, le azioni emesse da una banca, da una impresa di investimento o da una società facente parte di un gruppo bancario rappresentano appunto i primi strumenti che possono venire assoggettati al famoso belin, in caso cui la società versi in stato di dissesto. Pensate agli ultimi avvenimenti che sono accaduti. Quando compriamo invece un'obbligazione oppure un titolo di Stato, di fatto ci limitiamo a prestare dei soldi. Quindi con l'azione diventiamo soci, con l'obbligazione diventiamo finanziatori, cioè prestiamo dei soldi. Siamo creditori di quell'azienda o di quello Stato. Anche in questo caso, le obbligazioni sono soggette a rischio di insolvenza dell'emittente e possono essere assoggettate al belin nel caso in cui siano emessi dei soggetti sopra menzionati e non siano garantiti. Il belin trova però applicazione prima per i titoli azionari e poi per quelli obbligazionari. I titoli di Stato sono obbligazioni emesse invece da uno Stato sovrano e presentano quindi gli stessi rischi già visti per le obbligazioni. Giusto per citare i casi arcinoti, se metto tutti i miei soldi su una sola azione Parmalat e questa fallisce, se compro solo obbligazioni Lehman Brothers oppure se metto tutto sui titoli di Stato dell'Argentina. Ecco, ci siamo capiti. Proprio per questo quindi è importante diversificare, quindi non mettere tutte le uova in un unico parriere. Le quote di investite in fondi no, non sono soggette a belin. Ok? Rispondo ad una domanda che mi è arrivata ora. Via ciao. Parliamo di azioni. Le azioni sono le singole parti unitarie in cui è diviso il capitale della società per azioni. Il titolare di un'azione quindi possiede un pezzetto della società con tutti i diritti e gli oneri. Le azioni possono essere quotate o non quotate. Nel primo caso è più facile acquistarle o vendere ad un prezzo di mercato. Le azioni non quotate invece possono essere, possono presentare grossi problemi al momento della vendita. Il rischio principale di un'azione è il default dell'emittente, oltre a considerare il rischio di belin. Parliamo ora di obbligazioni. Le obbligazioni o bond sono titoli di debito attraverso il quale gli stati o le imprese si finanziano. Chi acquista le obbligazioni è come se finanziasse lo stato o l'impresa che le ha emesse. Questi ovviamente in cambio offrono un interesse. Ogni obbligazione ha una scadenza, per esempio a due, cinque, dieci anni. Più è lontana la scadenza, maggiori saranno gli interessi offerti. Arrivata a scadenza, poi l'obbligazione viene rimbozzata, quindi l'impresa restituisce chi aveva acquistato l'obbligazione e l'intero importo. Durante il ciclo di vita di questa obbligazione, la società emittente distribuisce cedole periodiche per un valore pari all'interesse annuale fissato. Quindi se io compro un'obbligazione di 10.000 euro che ha una cedola del, faccio un esempio, del 3%, arriverò ad avere annualmente un tasso di interesse mi verrà corrisposta a una cedola di circa 300 euro. Ok? Meno ovviamente poi la tassazione. Ora vediamo i rischi principali di un'obbligazione. Il rischio principale di un'obbligazione è il default dell'emittente e conseguente insolvenza dello stesso, perché io ho prestato i miei soldi all'emittente. Se l'emittente poi fallisce, non riesce più a restituirmi i soldi, per me è un rischio. È possibile incorrere in perdite a seguito dell'attività di compravendita delle obbligazioni, qualora l'acquisto ovviamente avvenga ad un prezzo maggiore di quello di rivendita o di rimborso. Quindi, facendo un esempio pratico, se io acquisto un'obbligazione a 100 e la rivendo a 90, ovviamente avrò perso in termini capitali. Se invece l'acquisto a 100 e mi rimborsano 100, avrò guadagnato quello che è il rendimento derivante dalle cedole. Ok? Il rischio è legato per lo più all'andamento dei tassi, ma solo qualora non si intenda poi portare a scadenza l'obbligazione. Vi ricordo però sempre che le obbligazioni bancarie, diverse da quelle garantite, sono soggette al rischio di Belin, ovvero dal potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale di titolo. Esistono invece degli strumenti che hanno già nel proprio DNA la diversificazione. Abbiamo detto che prima la diversificazione è molto importante. Per questo li abbiamo rappresentati come dei portafogli e graficamente separati. I primi sono i fondi comuni di investimento, scusate, SICAV, gli ETF, l'acronimo di questi ultimi sta per Exchange Traded Funds. Sono sempre fondi scambiati su un mercato regolamentato. Che cosa sono? Sono un particolare tipo di fondo comune caratterizzato da una gestione passiva. Cioè, significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un indice, sia questo azionario, obbligazionario o monetario. Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono, in primis, come potete vedere, la diversificazione, che ne abbiamo già parlato, perché all'interno di ogni singolo fondo, etf, troviamo altri strumenti e quindi ha già un effetto diversificazione. E poi l'accessibilità. Si possono investire anche in porti piccoli, tipo 1000 euro oppure 100 euro e con un solo strumento, dicevamo, compriamo migliaia di azioni, obbligazioni e titoli di Stato. Per completezza, nelle slide, abbiamo inserito anche i fondi di fondi, che fanno un passo in più, diciamo, è una sorta di portafoglio in cui all'interno ci sono altri fondi. Vediamo invece ora in questo momento che cosa sono i fondi comuni di investimento. Sono quote di investimento gestiti da società di gestione del risparmio, cosiddetto SGR, che riuniscono le somme di più risparmiatori e le investono come in un unico patrimonio, in attività finanziarie. Quindi immaginatevi una sorta di grande salvadanaio dove i vari investitori mettono i loro risparmi e c'è un gestore che con questi risparmi, con questi investimenti, li investe in attività finanziarie con lo scopo ovviamente di aumentare e di avere un determinato rendimento. Accanto alla forma tradizionale SGR, fondo comune, la stessa attività di investimento può essere svolta dalle società di investimento a capitare e variabile che sono le cosiddette SICAV. Gli ETF, come già detto, sono un particolare tipo di fondo comune caratterizzato da una gestione passiva. Ciò significa che il fondo si limita a replicare fedelmente un indice che può essere azionario, obbligazionario o monetario. Quindi i rischi principali sono più legati all'andamento dei mercati. Ok? Infine, dato che li abbiamo citati in qualche slide prima, vediamo cosa sono nel dettaglio e quali rischi comportano i fondi pensioni. Il fondo pensione è un organismo di investimento collettivo del risparmio che raccoglie i contributi dei lavoratori o dei datori di lavoro e li investe in strumenti finanziari allo scopo poi di erogare una prestazione pensionistica al termine della vita lavorativa del lavoratore. Il rischio è legato all'andamento anche qui dei mercati e degli strumenti in cui si investe. Quindi, riepiloghiamo. La pianificazione è il metodo che ci permette di gestire e non solo accumulare il denaro. Il primo passaggio è fermarsi e individuare le vere nostre esigenze con occhio lungimirante. Il secondo passaggio è trasformare la singola esigenza in obiettivo finanziario e cioè accostare un importo al nostro sogno per renderlo tangibile e individuare la soluzione migliore per raggiungerlo. Orizzonte temporale, profilo di rischio, sono i due elementi che permettono di scegliere correttamente lo strumento migliore per raggiungere i miei obiettivi. E poi, azioni, obbligazioni, fondi e fondi di fondi sono alcune delle soluzioni che posso utilizzare sempre in ottica di diversificazione. prima di procedere quindi alla conclusione di questo intervento vi chiedo se ci sono domande così potete scrivermi via chat e cercherò di rispondere. Allora, c'è una domanda molto interessante in base a quale obiettivo e profilo di rischio potrei scegliere di fare un investimento in azioni o etf a dividendo piuttosto che in azioni o etf più rettate al capital gain. Allora, non è tanto l'obiettivo e il profilo di rischio, ok? L'investimento in azioni con l'obiettivo appunto di fare del capital gain è molto più rischioso e diventa proprio un lavoro rispetto a quello di fare un investimento in un fondo o in un etf. perché l'obiettivo del capital gain è che noi facciamo una speculazione su quelle azioni. Ora, non so quale potrebbe essere l'investimento e il suo orizzonte temporale, ma sta di fatto che dietro ci presuppone un lavoro da fare, cioè quello di andare a selezionare la giusta azienda, anzi, selezionare il settore, il settore che potrebbe performare di più quell'anno o in quel bienio o in base al suo orizzonte temporale. Su questo settore andare ad individuare l'azienda, la società che è a sconto, cosa vuol dire? Vuol dire che ha un prezzo inferiore rispetto ai suoi fondamentali e rispetto a quello che è la media di settore. andare a selezionare quella che è il giusto o le giuste quote e poi di conseguenza cercare di individuare anche il corretto market timing. Insomma, per fare una strategia, per applicare una strategia del genere ci vuole tempo, ci vogliono competenze e ci vogliono anche degli strumenti adeguati per andare a selezionarle e andare ad analizzarle. quindi quello che io le posso suggerire è se ha degli obiettivi finanziari di più lungo periodo è bene andare a più a selezionare dei temi di investimento andare a vedere quello che è il suo profilo di rischio se lei riesce a reggere bene quelle che sono le oscillazioni di mercato faccio un esempio va bene anche andare sull'azionario se invece si preoccupa di quelle che possono essere le oscillazioni di mercato si può pensare a guardare anche ad un strumento finanziario come l'obbligazionario oppure il monetario insomma questo bene o male dovrebbe essere il suo pensiero se sceglie l'azionario ripeto applicare quella strategia diventa molto difficile rispetto al selezionare quello che potrebbe essere l'ETF o il fondo comune e poi il gestore fa questo lavoro va bene dopo ci sarà il video disponibile assolutamente sì lo potrete vedere nella sezione webinar on demand adesso ve la mostro andando qui nella sezione formazione andando su video library troverete poi su webinar on demand scusate non su webinar on demand andate su educazione finanziaria e troverete il video di questo webinar ok ok in previsione della pensione avendo la possibilità di riscattare la laurea conviene versare contributi all'Inps pian piano oppure investire questi 40.000 euro e riscattare tutto in blocco prima di andare in pensione cioè rendimento e rischio cambiano e come allora sì sicuramente andare a riscattare gli anni della laurea è un bel paragone nell'andargli a investire ripeto dipende molto poi dal suo profilo di rischio e da quelle che sono le sue esigenze e soprattutto il tempo che c'è che che le manca la pensione se le manca poco tempo sicuramente sarà più conveniente andare a riscattare gli anni dell'università se invece le manca un po' più di tempo e magari questi 40.000 euro investirli sarà sicuramente più più consono ecco però ripeto dipende poi dal suo del suo grado di investimento dalla sua conoscenza in termini finanziari dal suo grado di rischio tenga conto che i fondi pensioni poi hanno diverse linee di investimento c'è la linea di investimento prettamente azionaria o la linea di investimento un po' più bilanciata quindi per metà obbligazionaria per metà azionaria e così via quindi quello che deve vedere è il tempo che le rimane alla pensione e il suo profilo di rischio ok allora vediamo se ci sono altre domande al momento al momento non arrivano sì ci sono ci sono dei corsi che facciamo che può trovare sempre nell'area formazione webinar e corsi in aula dove parliamo appunto di cerchiamo nei webinar di far capire e di insegnare come utilizzare il nostro portale per investire in etf e anche in altri strumenti finanziari quindi vi ricordo che nella sezione formazione webinar e corsi in aula c'è una serie di appuntamenti che abbiamo ai quali potete iscrivervi gratuitamente bene allora siamo giunti al termine di questo webinar io vi ringrazio per l'attenzione e come vi dicevo prima vi ricordo gli appuntamenti che abbiamo che abbiamo in essere e che potrete vedere nella sezione webinar on demand vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro a tutti una buona serata arrivederci a presto a presto